Ed anche oggi con quattro cose e un po' di frutta ho preparato qualcosa di buono. Ci vediamo in cucina! Ed eccoci in cucina! Come prima cosa prendiamo le nostre arance e andiamo a togliere la buccia. In questo modo. Dopodiché facciamo delle linee attorno. E la sbucciamo. Torta la buccia della nostra frutta, prendiamo un'ampolla e iniziamo tagliando a tocchetti le nostre arance. Quindi prima a metà, poi a spicchi. Fatto questo, in base alla dimensione tagliamo o in due o in tre pezzetti. Tagliata a tocchetti la nostra arancia, prendiamo una cipolla e la tagliamo a fettine molto sottili. Utilizzando due cucchiai diamo una bella mescolata, delicatamente. Messa la cipolla, prendiamo un piccolo limone, tagliamo a metà e lo andiamo a spremere all'interno della nostra insalata. Diamo un'altra bella mescolata, sempre in modo delicato. Aggiungiamo sale. Un pizzico di pepe. Mescoliamo. Andiamo ad aggiungere un filo d'olio extravergine d'oliva. Altra mescolata. Prendiamo un piatto ed impiattiamo. La nostra insalata d'arancia è pronta. E adesso ti invito a iscriverti per altri video. Noi andiamo a mangiarci l'insalata. Grazie. 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 Grazie.